Siamo con Immacolata Parisi, distretto 108YA, ai margini della 18esima conferenza del Mediterraneo. Immacolata ha appena presentato il progetto proposto dal suo distretto e legato al supporto alla mobilità degli studenti universitari dei paesi del Mediterraneo. Immacolata, vuoi raccontarci innanzitutto la base, chiamiamola, teorica di questo progetto? È la mobilità giovanile ai fini dello scambio culturale perché i paesi dell'euro-mediterraneo non siano più soltanto luogo di conflitto ma siano un luogo in cui ritroviamo le comuni identità culturali e in qualche maniera promuoviamo uno dei concetti dell'ionismo che è la promozione della pace per i popoli nel mondo. Allora, noi sappiamo che però l'Europa in questi ultimi 10 o 15 anni ha fatto parecchio in questo campo soprattutto per quanto sotto il titolo dei famosi progetti Erasmus. Come si collega ai progetti Erasmus il vostro progetto? Si collega all'Erasmus Plus che è il progetto che riassume ormai due precedenti Erasmus e Erasmus Mundus perché si propone di incentivare la mobilità giovanile non solo dei termini dello scambio degli studenti da un paese all'altro per l'acquisizione dei crediti formativi ma anche per la creazione di masters universitari a partire dai dipartimenti delle diverse università. I Lions, i Club Lions avrebbero in questo caso la funzione di affiancare tutte le attività preliminari ma anche quelle poi successive alla mobilità giovanile, allo scambio e all'ingresso nei paesi ospitanti. Immacolata, passando dalla teoria alla pratica voi però avete già avviato dei primi progetti sperimentali. Abbiamo un progetto pilota che nasce dal gemellaggio antico del club Salerno-Hoss del distretto 108 Ypsilon A con il club Tunisi-Cartagine del distretto di Tunisi dove ci sono antichi rapporti tra questi due club ormai credo decennali e dove il professore Adalgisa Mendola del dipartimento dell'Università di Fisciano di Salerno ha con l'aiuto dei due Club Lions sostenitori istituito già dei rapporti con l'Università di Tunisi-Cartagine per cominciare un programma quest'anno di scambi di studenti e di ricercatori in vista della possibilità di creare un master interuniversitario per realizzare il grande sogno della Università Euro-Mediterranea. Grazie a tutti!